Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale. Oggi come vedete sono in compagnia finalmente della cosiddetta ragazza chiamata la ragazza dei capelli colorati, vabbè insomma, la Larisse. Comunque siamo qua perché, come sapete, pochi giorni fa è uscita l'ultima puntata e quindi il finale di stagione di Shadowhunters, che noi siamo follemente innamorate e seguiamo ormai dall'inizio. Da prima dell'inizio. Da prima dell'inizio, esatto. In realtà. Specie lei che ha letto tutti i libri. Siamo qua appunto per fare il video di action perché nessuno delle due l'ha vista e volevamo condividere con voi le nostre gioie, i nostri dolori. Anche perché siamo rimasti, insomma, la scorsa puntata è stata una puntata abbastanza traumatica. Molto. Per chiunque è Ship Malek ovviamente. Per gli baci Malek soprattutto, però insomma anche in generale, ecco. Quindi vediamo questa. Cosa succede? Non tutto oggi. Eh, non tutto. Vediamo. Cazzo. Comunque veramente sema Star Wars, cioè, con quella spadina. Sì, vabbè. Guarda che veramente sembra un serial killer. E rotoliamo. Sì. Ma che cos'è? Scusa. Siamo al circo. Ginnostica artistica. Sì, è un peggio di me. Voglio. E aah! Che dolore! Adios, però, che faccia. Incavola tornevo. Sei in testo, Jay. Sì, proprio. Sì, ma comunque la faccia, però. Cane bastonato. Aspetta. Eeeeh, viva Ale. Voglio vedere il felice, proprio io. Hashtag Ale sei il migliore. Esatto. Allora, ricambiamo oggi. Richiama il resto del treco. Allora, la camminata. Spostiamo il ciuppo! Mi ho neanche accorta. Eh, io sì. Certo che potrebbe fare un tatuaggino qua, ci stanno facendo bene. Sì, potrebbe sì, in effetti. Guarda che figo, i capelli. È il top. A me piace, a me piace la, come si chiama, la manucola. Sì, a me è tutto. Ma scusa, le labbra? Parliamo. What the fuck? Nooo! Sì, i figlioti, però, eh? Cioè, era, era ovvissimo, è la scena più ovvia di tutta la puntata. Oh! Ma chi è, scusa? Non c'è divina qua. Sì. Eh beh, sei figa! Eh beh, sei figa! C'è la gente che è entrata. Raffael, mi dispiace, tesoro amore, però lei è una figa. Sì, e poi sui capelli sono il top. No, lei è figa tanto. Sì, ma capisci che voglio quei capelli? Adios! Fantastico! Guarda che annusa per sentire. Sangue angelico. Che cazzo! No! 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 No, 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 sparatevi. Scusate, aspetta che mi scuoca la faccia adesso. Amore mio, no! No! No, aspetta che ti spiego che sta succedendo è una bastarda io non volevo farlo non è colpa via alex ricchiala picchiala picchiala no no salve no meglio di noi beh insomma non interessa ma sta che poveretto cucciola mio no queste cose ma come lo guarda proprio con aria sono figa io ma ecco meglio che va via perché povero voglio morire tipo sei discorsi di incoraggiamento ma cosa sono un esercito ma è rotta verso l'infinito e oltre titanic ma che pazzo esercito di shadow hunter sì ma che fine che depressione voglio morire